L'assessore provinciale alla salute Luca Zeni è intervenuto sulla questione della guardia medica che dallo scorso novembre è stata accentrata nell'ambulatorio di Riva. Gli accessi all'ambulatorio calcolati nelle 12 ore di copertura notturna del servizio sono fermi a solo sette utenti, ha dichiarato durante l'incontro svoltosi presso la sede del Partito Democratico di Riva, una media ancora troppo bassa per gli standard previsti dal piano di riorganizzazione Trentino, sul quale bisogna continuare a lavorare per far sì che da un lato aumenti la cultura nella popolazione sul servizio di continuità assistenziale, dall'altro che diminuiscano gli accessi al pronto soccorso per codici bianchi o verdi. Quanto al punto nascita dice avevamo chiesto alla commissione ministeriale di tenere conto delle zone disagiate, ha ribadito Zeni, e della nostra domanda di deroga all'apertura. È stato ritenuto che le difficoltà dovute ad una situazione orografica non semplice non fossero significative al punto da giustificare la riapertura in sicurezza del punto nascite di Arco.